Allora, con Daniele Zambon della Femca CISL, parliamo di Concia, ritornano i sindacati CISL e CISLUIL con Confindustria in un settore importante. Che cosa è successo, Zambon? Ma allora, molto semplice, abbiamo ottenuto un'importante sentenza da parte del Tribunale di Vicenza che stabilisce il fatto che le prassi sindacali dei rinnovi dei contratti nazionali, in particolar modo del contratto della Concia, che è sempre stato applicato nel territorio del distretto della Concia, quello sottoscritto da CGL, CISLUIL e UNIC, è una prassi sindacale giusta, corretta e che chiaramente vede l'applicazione di quel contratto nelle aziende. Questo in contraposizione con chi ha sottoscritto un contratto che a nostro avviso è un contratto che esce dal perimetro della giusta contrattazione, che esce dal perimetro dei giusti diritti, del giusto riconoscimento, chiaramente sia dal punto di vista normativo che economico, diritti che devono essere riconosciuti a tutti quanti i lavoratori del distretto della Concia di Arzignano, ma non solo, di Chiampo, del distretto nel suo complesso.